da oggi c'è una grande novità vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di qui studio a voi stadio abbigliamento uomo donna e bambino arredo casa e accessori esclusivi tutti con i colori della tua squadra del cuore per te o per un regalo originale non perderteli un meraviglioso saluto amici del canale youtube qui studio a voi stadio da gianluca rossi un meraviglioso saluto perché voglio conservare assolutamente il sorriso in un momento di forti polemiche dopo fiorentina inter come questo ho letto delle cose in vere conde ho sentito delle cose in vere conde in vere conde e anche ignobili devo dire sull'inter purtroppo finché parlano i tifosi si sa ci può stare quando però parlano i maestri di giornalismo che si comportano veramente con commenti da ultra beh francamente resto piuttosto basito però se lo scopo è quello di tirarmi dentro questa polemica francamente nel mio piccolo me ne frego e tiro avanti le polemiche dopo fiorentina inter per di marco non sono nemmeno paragonabili per intensità per rissosità a quelle molto piccole in fondo che erano state fatte per abisso ve lo ricordate il famoso capezzo non sono in un altro fiorentina inter storico di addirittura con l'uso del bar ma non importa perché altrimenti corro anche io rischio di scendere di livello e non me ne frega niente onestamente quindi tifosi dell'inter dovrebbero pensare ai problemi di casa nerazzurra che restano assolutamente sotto gli occhi di tutti il primo problema è la difesa con la brodo difesa con la brodo perché prendere 17 gol in 11 partite di cui 14 in trasferta essere la difesa più battuta in trasferta del campionato dopo che questa stessa difesa era stata la migliore due anni fa e non lo era stata per un soffio per un solo gol preso più di milano e napoli l'anno scorso pone ovviamente degli interrogativi a cui risponde bene la classifica non a caso l'inter al momento pur essendo forse uscita indubbiamente dall'impasse resta in una posizione se finisse il campionato oggi di conference league e ci resta proprio per questo per questo dato assolutamente negativo della difesa prende troppi gol a firenze parlando di campo se ci riusciamo una volta visto che da cronisti dovremmo soprattutto parlare di campo l'inter ha preso altri tre gol è stata rimontata due volte da 2 a 0 a 2 a 2 poi 3 a 2 3 a 3 trovando poi al 95esimo per grazia del cielo il gol di mkhitaryan e portando a casa questa partita sì possiamo consolarci anche col fatto che spesso l'inter ha la tenuta per andare a vincere o a raddrizzare le partite agli ultimi minuti pensate a lukaku al 95esimo mkhitaryan al 95esimo lukaku sto dicendo a lecce alla prima giornata mkhitaryan a firenze pensiamo pure a brozovic al minuto 89 cavolo anche quella è stata tanta roba però vi ricorderete no andanovic che ormai in disuso è stato è stato il migliore in quella partita con le sue parate col torino a san siro dico e poi il gol di gossens a barcellona all'ottantanovesimo minuto il 3 a 3 quello che io mi auguro stia per diventare il gol simbolo dell'accesso dell'inter alla seconda fase di champions league già perché adesso piuttosto che perderci in polemiche pretestuose da retro bar su fiorentina inter mancava solo tra i toscani tra i grandi soloni toscani so che intervenisse pure pieraccioni tra un po sul tema ma ci sta ci sta tutto ormai no ci sta tutto e l'inter deve concentrarsi soltanto sul traguardo champions league perché questo sarebbe il primo traguardo il primo punto esclamativo della stagione e diciamo la verità anche piuttosto insperato per come si era messa nell'urna vi ricordate con il sorteggio venerdì tra l'altro c'è l'assemblea dei soci la famosa assemblea dei soci a seguire il cdi a in cui steven zang ammetterà i suoi 105 milioni ovviamente presi ovviamente presi dal prestito di octre capital ne ha utilizzati di questi 275 75 finora adesso ne utilizza altri 105 è una sorta di aumento di capitale che servirà per provare a sistemare la vicenda screenia e da lì forse capiremo anche qualcosa di più sulla vendita dell'inter dove sono sempre più forti le voci di un gruppo americano fondo azienda multiproprietà consorzio di aziende non so non non mi interessa parlare di cose che non sono imminenti e temo che la posizione di steven zang verrà ribadita agli azionisti anche venerdì io cerco soci e non acquirenti ora naturalmente noi sappiamo benissimo che dalla cina non vedono l'ora di vendere l'inter sto parlando del padre zang zindong ma il figliolo steven la vita occidentale piace moltissimo l'ipotesi di tornare probabilmente in cina non lo fa impazzire però sono vicende che sono tutte da da scrivere che non secondo me non prenderanno forma sicuramente in quest'anno speriamo nel 2023 ma non ne sono così sicuro perché se c'è sempre uno che non vuole vendere capite bene che tu puoi far tutto quello che vuoi ma insomma le sorti di questa società non sono destinate a cambiare quindi concentriamoci a breve concentriamoci quindi sulla cosa più breve ripeto sulla sulla champions la situazione piuttosto chiara bisogna battere vittoria pilsen a san siro attenzione perché troviamo una squadra che se non ricordo male quella che ha preso più gol in assoluto a proposito di difese con la brodo ha preso più gol insieme ai rangers glasgow che però erano nel giro nel napoli che fa gol a tutti quindi vittoria pilsen credo che abbia preso come i glasgow rangers 16 gol in champions ne deve ovviamente prendere altri mi sembra talmente evidente e gli altri gol che deve prendere da uno a salire senza possibilmente segnarne alcuno mi sembra ovvio li deve prendere a san siro perché a san siro domani sera l'intera una grande grande opportunità quella prima di tutto di arrivare ed è un bel prestigio per il secondo anno consecutivo agli ottavi di champions alla seconda fase e quest'anno era molto più difficile dell'anno scorso amici miei credetemi e per farlo deve battere vittoria pilsen e poi ci sono altri 10 milioni ovviamente che entrano insperati in bilancio in una società che ha bisogno ovviamente di tanti soldini sempre per andare avanti visto che brucia 10 milioni al mese praticamente ti fai un mese di vita visto che più o meno sono 10 milioni quelli in più che arrivano di differenza grosso modo tra l'europa league o meno e la champions league il risultato è la vittoria c'è un ulteriore paracadute al quale non voglio nemmeno pensare che l'inter faccia lo stesso risultato del barcellona che non in contemporanea ma un paio di ore dopo ospita il bayern ma il bayern da questo punto di vista insomma è squadra che non è che arriva anche se già qualificata così tanto in scampagnata quindi è d'obbligo essere di essere molto fiduciosi e bisogna vincere con vittoria pilsen vedremo naturalmente stasera a milan e juventus in champions perché dobbiamo guardarci tutti a distanza e poi ripenseremo al campionato perché adesso arriva a san siro la sandoria del drago stankovic tripletista ex tripletista inter che ha vinto la sua prima partita era ora verrebbe da dire e però lì ecco lì ci dovremmo occupare di nuovo visto che questo è il tema del campionato della difesa con la brodo però per il momento fatemi pensare amici di cui studio a voi stadio che avete a cuore le sorti dell'inter ovviamente soprattutto al traguardo champions vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale di cui studio a voi stadio e con questo Gianluca Rossi vi saluta caldamente ciao